Eccoci, ben ritrovati. Buongiorno a Matteo Renzi, il segretario del Partito Democratico. Benvenuto e ben ritrovato qui a Matteo 5. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, mancano pochissimi giorni. Oggi e domani, poi la campagna elettorale si chiude. Perciò noi, come vede, qui abbiamo la nostra lavagna. Tra pochissimo le faccio dire quali sono le prime cose da fare per il Paese, secondo lei. Però mi lasci cominciare con questa storia che ci ha scosso tutti quanti, la storia di Cisterna di Latina, la storia di una famiglia che è stata sterminata da un carabiniere, da un carabiniere che non voleva separarsi dalla moglie. Che effetto le fa questa ennesima storia di allarmi inascoltati, di donne uccise, di bambini che ne fanno le spese che sono vittime? Da padre dico che non ho parole, ero con le vostre collaboratrici qui mentre stavamo assistendo al vostro servizio di prima, mentre stavamo aspettando il collegamento e quando vedi delle immagini, senti dei racconti, pensi a quello che può accadere, credo che davvero non ci siano parole per esprimere da un lato il dolore atroce e dall'altro lo sdegno. È evidente che di fronte a queste vicende, di fronte a queste vicende c'è soltanto da chiedere che i controlli siano più efficaci, più forti, che le denunce siano più presenti e mettere sempre più soldi, cosa che stiamo cercando di fare su tutto quello che riguarda la violenza e la lotta contro il femminicidio. È anche vero che di fronte alla follia e a quello che passa dentro l'animo umano, personalmente da padre dico vorrei anche che la politica avesse il pudore di fermarsi un minuto prima e di non dire cose banali e senza senso. Mettiamo più soldi possibile nella lotta contro il femminicidio, ma di fronte a quello che abbiamo visto c'è soltanto la commozione, il dolore, in qualche misura anche, come posso dire, un sentimento profondo di vicinanza a questa povera donna che rimane sola e che rimane senza le figlie. Ai suoi figli cosa cerca di raccontare di questa vicenda, di un paese che secondo me ha un problema culturale quando una donna va a fare una denuncia e la sottostima questa denuncia. Questo è un tema che deve riguardare soprattutto noi uomini, può sembrare paradossale. Noi dobbiamo incoraggiare le donne, le nostre figlie, le nostre sorelle, le nostre compagne ad avere tutte le condizioni di solidità e di tranquillità in caso di denuncia, ma dall'altro dobbiamo anche educare i nostri figli. Io quando penso a scene di questo genere non penso soltanto a mia figlia, penso ai miei figli maschi, a educare ad avere un rispetto profondo, anche verbale, e iniziare fin dalla scuola, non partire soltanto dalle vicende di cronaca, perché il tema della violenza fisica è insopportabile e naturalmente va combattuto. Ma secondo me c'è proprio un bisogno di combattere una cultura sbagliata e questo deve riguardare anche noi uomini. Queste ragazze, queste donne possono essere le nostre figlie, le nostre sorelle, le nostre compagne. Guai a pensare che sia un problema soltanto delle donne. Sono d'accordo, lo devono pensare anche coloro che ricevono le denunce, pensare sempre che potrebbero essere loro figli e loro sorelle. Io la ringrazio intanto perché questo commento è una storia che ci ha scosso tutti quanti, da ieri l'abbiamo seguita e continueremo a seguirla. Vengo invece alla politica a queste ultime ore, qui sulla mia lavagna, prima di arrivare alle alchimie delle alleanze. Io le dico, facciamo finta che le danno un buono a tre leggi da far passare senza dover stare a discutere. Quali leggi fa passare? Prima una legge che dà più soldi a chi investe sulla famiglia. In questi anni noi abbiamo investito molti soldi sul lavoro, sulle imprese. Potrei citare delle sigle, l'IRAP, costo del lavoro, l'IRES che è passata da 27,5 a 24. Ma non abbiamo fatto tutto quello che era necessario per far fare figli, per dare diritti, per riuscire a permettere a una madre che deve scegliere tra carriera e maternità, che non deve più scegliere, che può fare un figlio e continuare a lavorare. Queste misure non sono misure dal libro dei sogni, hanno un valore preciso. Io rispetto ai miei colleghi e avversari politici ho delle cifre molto più basse. Perché ho fatto il Presidente del Consiglio e so che non si possono sparare cifre in libertà come quelle che abbiamo sentito dai nostri avversari. Glielo dico subito, 9 miliardi di euro. Che è una cifra, 9 miliardi di euro, che è più o meno pari a quella che abbiamo fatto con gli 80 euro quattro anni fa. E che cosa comporta questa cifra? Comporta che per ogni figlio, per ogni famiglia, per ogni mese ci deve essere un assegno universale, anche per le partite IVA, anche per gli autonomi, che permetta di non considerare il figlio un costo. Però c'è anche un punto successivo sulle famiglie. Questo assegno, scusi, cioè se io ho un figlio o due figli, quanto mi arriva di assegno? Dipende se lei prende più di un tot. Perché se lei ha uno stipendio buono, molto buono, se lei sta sopra i 100 mila euro, allora lei non ha diritto. Ma per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane, che sta sotto i 100 mila euro, l'idea è quella di dare almeno 80 euro netti in più rispetto a quelli che già ci sono. 80 euro netti in più rispetto a quelli che già oggi, con la nostra misura del 2014, ci sono. Per chi? Per tutti. Anche per le partite IVA, anche per le famiglie che magari guadagnano 2.000 euro netti al mese, non soltanto 1.500. E questo vale per ogni figlio, per ogni mese, fino a 18 anni. Dopodiché c'è, nel pacchetto dei 9 miliardi, la carta universale per gli asili nido e le babysitter. C'è la possibilità per una donna che dopo tre mesi vuole tornare a lavorare, di avere comunque un incentivo economico per pagarsi magari la babysitter o per avere un servizio in più, magari si fa aiutare dalla nonna, che come le sante nonne italiane sono gratis, ma c'è lo spazio per poter... C'è una sorta di incentivo, lei sa, che se rimane a casa ha diritto ad avere un tot dell'assegno anche nei mesi successivi al parto. Bene, io dico questo assegno deve continuare anche se decidi di tornare a lavorare. Cioè un aiuto in più perché magari decidi di tornare a lavorare, magari fai un part time e però ti permetti di avere qualche ora una ragazza o qualche ora una persona che ti aiuta a tenere tuo figlio o tua figlia. C'è però in questo passaggio, scusi se sono stato lungo, ma è molto importante... Io sono qua, scrivo, anzi così ho più tempo per scrivere. Perché vede, è facile fare promesse irrealizzabili, poi c'è la concretezza di chissà che i soldi sono quelli. C'è una misura che è fondamentale e che riguarda i nostri anziani. Io la metto nel pacchetto famiglie, la metto per i giovani coppie, per i figli, ma c'è un problema che riguarda i nostri anziani. Che cosa sta succedendo? Noi viviamo di più e questo è meraviglioso perché l'alternativa non è granché. E' peggio sicuramente. Vivere di più. Cosa significa? Significa però che i nostri anziani vivono meglio, tu trovi settantenni, ottantenni che vanno in palestra, trovi persone che danno una mano alla propria città, bello, tutto bene. Però trovi anche delle malattie molto più presenti di prima. Alcune sono devastanti perché chi da casa ha fatto i conti con l'Alzheimer e si rende conto che il proprio compagno improvvisamente perde la memoria, cioè perde i ricordi, perde una vita, i ricordi di una vita vissuta insieme, ha un dolore che non è risarcibile economicamente. Tu puoi dare tutti i contributi che vuoi, ma quel dolore lì, una coppia in cui uno ha l'Alzheimer o uno ha l'Alzheimer o un figlio vede il padre perdere i ricordi o la madre, è evidente che non la riesci a risarcire economicamente. Ma queste malattie, detto l'Alzheimer, ma potrei parlare del Parkinson, potrei parlare delle malattie che sempre di più ci sono, perché sono malattie legate al fatto che si vive un po' di più, vanno in qualche modo gestite con più risorse da parte dello Stato. Questo vuol dire aumentare i fondi della sanità, noi siamo passati, do un numero preciso, da 106 miliardi quando noi siamo arrivati a 114 miliardi oggi. Ora ci sono 114 miliardi nel fondo. Noi dobbiamo aumentare ancora questi denari per i nostri medici, per le nostre strutture, però mi permetta di dire che dobbiamo dare anche alle famiglie che vogliono permettersi una badante la possibilità di detrarre fiscalmente, perché se io voglio mantenere mio padre in casa e voglio chiamare una persona, un badante o una badante, non posso avere un costo pieno con tutto ciò che oggi costa anche dal punto di vista delle tasse e del fisco. Allora, detrazioni fiscali per le badanti o possibilità di detrarre il costo della retta dentro una struttura di assistenza, dentro una casa di cura e viceversa grande investimento da 500 milioni a 2 miliardi di euro sulla non autosufficienza. che come vengono spesi questi 2 miliardi, quindi con assegni di invalidità? Attenzione, gli assegni di invalidità bisogna distinguere, perché oggi che cosa succede? Magari ci sta seguendo una persona che è disabile al 100%, o all'80%. Disabilità vera, non i finti invalidi, ma chi di noi ha toccato con mano in famiglia o tra gli amici situazioni di questo genere, si rende conto che l'assegno di oggi è da un lato troppo basso e dall'altro ha un problema, che con il calcolo dell'ISEE, se tu hai anche una casa che ti hanno lasciato i tuoi genitori, magari tu arrivo persino a dire una casa sfinta, non ti arriva più nulla e questo è ingiusto, negli altri paesi europei che cosa succede? È il grado di disabilità che fa la differenza, non è il fatto di avere un reddito, a meno che tu non sia un super ricco e si torna al principio di prima. Allora, evitare che magari una persona che ha una pensione normale di 1000-1100 euro e che ha un assegno ridicolo, un assegno di accompagnamento ridicolo, debba perdere anche l'assegno perché magari c'ha una casa o c'ha un intestato e gli fa un premio sull'ISEE, qualcosa. Ecco, posso dirle questo e poi su questo punto finisco. Giriamoci un attimo però, perché io voglio parlare il linguaggio proprio della concretezza del buon padre di famiglia, come fanno le persone a casa. Io mi giro indietro, sa quanto erano i soldi sulla non autosufficienza quando noi siamo arrivati? No. Zero. Poi sono diventati con il mio governo, li abbiamo portati a 450 milioni e 500 milioni e io sono il primo a dire che pur essendo contento di questo aumento, non bastano. Portare a 2 miliardi di euro il fondo per la non autosufficienza è la naturale conclusione di un percorso che tiene famiglie, figli, babysitter, badanti, perché dopo aver dato tanto alle aziende per creare lavoro, non dimentichiamo che c'è la priorità vera che è la vita in famiglia e dare un pochino più di diritti a chi in questa stagione ha bisogno di avere un sostegno più forte dello Stato. Posso cercare di fare un calcolo, è ovvio che è un calcolo impreciso e a spanne, però facciamo finta, una famiglia, reddito medio italiano, due figli e magari la nonna con la badante. Possiamo immaginare quanto questo pacchetto di aiuti all'anno peserebbe sulle tasche? Io ho fatto un rapido calcolo a mente che solo con due figli qui ci sono quasi 2000 euro con il bonus all'anno degli 80 euro. Se i due figli sono minorenni e naturalmente la famiglia non prende più di, cioè il singolo reddito non supera i 100.000 euro, a questa famiglia entrano in tasca in più rispetto ad oggi circa 3200 euro, perché sono 2000 euro per i figli e l'equivalente più o meno di 100 euro netti al mese per l'anziano che ha un problema sulla badante o la nonna sufficienza. Quanto ha detto? 3.000? 3.200. Il conto si fa presto, si fa bene, 2.000 euro sono i figli e sono circa 100 euro al mese per una persona che vive una situazione di disabilità. Io se riesco con la carta lo stacco e lo metto lì, questo è il foglio diciamo delle leggi che lei farebbe immediatamente, eccolo qua e lo stendiamo qua per terra intanto perché così poi facciamo le altre nostre cose. Stia attento a non pestarlo mi raccomando. L'ho messo là apposta, non è giusto per trovare uno spazio. Naturalmente queste cose le riesce a fare se il PD sta al governo con una quota rilevante e come si fa? Questo naturalmente dipende dai cittadini, nel senso che il primo appello che io faccio in queste ultime ore di campagna elettorale è esattamente questo. Io lo so che noi non abbiamo fatto in questa campagna elettorale le mirabolanti promesse che hanno fatto altri. Qualcuno ha promesso di tutto tra i miei, non dico nemici perché io non voglio avere nemici, ma tra i miei avversari, tra i nostri competitor. Eppure noi stiamo facendo un ragionamento di grande serietà perché chi ci ascolta sa perfettamente dove eravamo quattro anni fa. Se noi ci giriamo un attimo, ricordiamo che quando siamo partiti c'era Italia in crisi, rischio bancarotta, PIL, cioè la misura dell'economia almeno 2.3%, oggi è più 1,6%. Oggi qualcosa si è messo in moto. Noi dobbiamo avere un atteggiamento di serietà e rigore e dire a chi va a votare domenica. C'è un rischio estremismo in Italia perché quelli che ti promettono di tutto poi non guardano le conseguenze sui conti pubblici. Se io vengo a promettervi che faremo un abbassamento di tasse per 200 miliardi di euro, voi magari potete anche votarmi perché vi piace l'idea, ma sapete perfettamente che lunedì mattina questo abbassamento di tasse finisce. Non c'è, non ne parla più nessuno. Posso aprire una parentesi su questo perché lei dice ci sono i nemici, però bisogna stare attenti anche agli amici perché Emma Bonino ha detto invece che magari rimette l'Imu. Però su questo mi perdoni, lei sta parlando con colui il quale quando era presidente del Consiglio, anche lo riconosco prendendosi un po' di insulti dei propri amici di partito, ha cancellato l'Imu e la tasse sulla prima casa. Aggiungo anche l'Imu sugli imbullonati, che è una misura che è servita molto alle aziende e che è giusto per chi ha una fabbrichetta o un capannone. Questa cosa della tasse sulla prima casa non esiste. Noi l'abbiamo abolita come abbiamo abbassato l'IRAP, anzi abbiamo eliminato la componente costo del lavoro dell'IRAP, come oggi abbiamo messo delle cose in più. Quindi non la rimettete? No, ma non esiste, non sta né in cielo né in terra questa proposta, perlomeno per quello che riguarda il PD. Dicevo che senza voler parlare male degli altri, anzi con grande rispetto per gli altri. Io dico, noi abbiamo dimostrato che questo paese che stava in crisi lo possiamo mandare avanti. Ora bisogna guardare al futuro, senza però le promesse mirabolanti. Cioè io dico, chi domenica vuole votare per quelli che lanciano promesse irrealizzabili, fa bene a non votare PD. Ma chi vuole andare avanti, chi vuole continuare passo dopo passo a vedere questo paese stare un po' meglio, chi vuole investire sui figli, sulle partite IVA e mi lasci dire, sugli anziani, ha la possibilità di dire, beh, questi del PD, magari litigano ogni tanto un po' troppo, aggiungo io, qualcuno mi sta antipatico, hanno fatto chissà che cosa, però l'Italia è ripartita. E questo è un passaggio molto importante. A proposito di simpatia o antipatia, lei ha avuto una storia per cui, quando siamo andati a votare alle europee, il PD ha preso il 40% e lei nel paese era, come dire, circondato da aggettivi superlativi. Cos'è successo poi? Perché adesso ammetterà anche lei stesso che questa simpatia il paese non gliela concede più. Perché? Questo lo vediamo lunedì, però è vero, la serietà vuole che si dica che il risultato del 40% fu un risultato talmente straordinario che nella storia della Repubblica Italiana sa che anno dobbiamo risalire per trovare un altro 40% di un singolo partito? 76? No, mi permetta di correggerla. Nel 1959, e sa chi era? Era Mintore Fanfani, altro toscanaccio, ma lui molto più autorevole e importante di me. Dal 1959 al 2014 nessun partito ha preso il 40%. Questo dimostra l'eccezionalità di quel risultato. Però io la seguo e dico quali sono state le due conseguenze di quel risultato? La prima, secondo me positiva, è che siamo andati in Europa, abbiamo anche picchiato i pugni sul tavolo, abbiamo ottenuto una cosa che si chiama flessibilità e abbiamo potuto fare tutte le misure di cui ho parlato prima, dai 500 euro ai 18 anni fino alle misure di riduzione del costo del lavoro o all'industria 4.0. Cioè, quel 40% ha permesso all'Italia di essere oggi economicamente più forte. Perché? Perché abbiamo ottenuto soldi per abbassare le tasse. È successo anche una cosa negativa, e la ammetto, e cioè che dal giorno dopo nel mio partito in molti hanno iniziato a farmi la guerra. E questo bisogna accettarlo. L'abbiamo visto, lo vediamo ancora adesso. Del resto, chi come D'Alema iniziò allora a farmi la guerra, oggi lavora contro di noi, ed è in un altro partito, in un altro schieramento, in un'altra coalizione. Però io penso anche che una persona seria, una persona che guarda negli occhi i suoi concittadini, non pensa a tenere alto l'indice di gradimento e non fa niente. Ma provo a cambiare le cose. Io avrei potuto tranquillamente restare per anni a Palazzo Chigi, mantenendomi buoni tutti, vivacchiando, senza fare riforme, senza far arrabbiare le persone. Ma noi abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di mettere soldi nella scuola, abbiamo bisogno di portare il merito delle scuole. E lo voglio dire a chi ci ascolta, noi dobbiamo mandarlo avanti questo Paese. Perché se non stiamo vivacchiare, facciamo la fine di altri Paesi. Praticamente mi sembra di capire che dalla sua esperienza di Premier, chiunque nel Paese voglia arrivare a cercare di cambiare qualcosa, cambiare la pubblica amministrazione, cambiare la scuola, alla fine agli italiani un po' sta antipatico. È così? Questo, le ripeto, lo vediamo lunedì. No, ma non dico a lei, però lei ha detto che l'indice di gradimento l'ho un po' perso perché ho cercato di cambiare le cose. Io le dico che tra avere alto l'indice di gradimento e avere alto l'indice degli occupati, preferisco preoccuparmi degli indici occupati. E siccome non voglio raccontarvi barzellette, vi dico i dati dell'Istat, non i dati dell'Ufficio Studio del Partito Democratico, i dati dell'Istat, cioè dell'Istituto Nazionale di Statistica, dicono che siamo a 23 milioni di posti di lavoro. Dov'è la fregatura? Dov'è il problema? È che questi 23 milioni di posti di lavoro, a mio giudizio, devono crescere, perché ancora non bastano, bisogna arrivare a 24 milioni di posti di lavoro, ma bisogna anche far sì che non ci siano più quei lavoretti sottopagati per cui per portare le pizze in motorino ti danno 4 euro l'ora l'ordi. Bisogna avere quello che noi chiamiamo il salario minimo, cioè una paga minima oraria. Però bisogna anche, me lo lasci dire, non cedere alla cultura della paura, del va tutto male. Mi hanno detto, devi fare la faccia preoccupata, dire che va tutto male. Io non lo farò mai, perché io credo nell'Italia. Ma io credo nell'Italia soprattutto. Io vedo l'Italia, mi scusi, questo è un paese che ha delle potenzialità enormi. Certo, dobbiamo fare di più la burocratizzazione, per esempio. Mi dà un numero? Possiamo immaginarci un numero per il salario minimo? Il numero lo decidono le commissioni, però non voglio essere nebuloso e quindi le dico che la nostra proposta è quella che sia 9 euro l'ordi all'ora. Che certo, rispetto ai 33 centesimi del call center di Taranto, è un bel miglioramento in effetto. Quello però non è neanche un paragone fattibile, perché è ridicolo. Cioè, parliamoci chiaramente... Però è vero che c'è la fila di gente che sarebbe disposta ad accettare qualsiasi condizione. In questi anni è peggiorata la qualità del lavoro? No. È facile dirlo perché per le persone magari un po' più anziane, che sono andate in pensione, ricordano come era prima. Prima si entrava a 17, 18, 20 anni magari in una fabbrica e stavi tutta la vita in quella fabbrica lì. Però era un mondo diverso. Io non dico che fosse migliore o peggiore. Per chi ragiona con il canone della nostalgia, sicuramente si stava meglio quando si stava peggio, dicevano i nostri anziani. Però se guardiamo la realtà, è anche vero che l'Italia è piena di opportunità. Purtroppo, sa qual è il vero dramma del nostro paese? È che c'è una divisione netta, troppo netta e ancora più profonda tra Nord e Sud. Le faccio un esempio. Ci sono aziende nel Nord-Est che stanno viaggiando più veloci della Germania, che investono, che con Industria 4.0 stanno cercando dei posti di lavoro e che paradossalmente non trovano personale per le loro aziende. Perché? Perché la scuola in questi anni, in questi 20 anni, è stata un po' lasciata da parte e non ci sono le professionalità, per esempio, degli ITS, degli istituti tecnici specializzati. Allora, noi abbiamo un Nord che viaggia straveloce e un Sud che ancora va troppo piano. Le dico, si può e si deve fare meglio. Ma quando penso che una grande azienda come Apple, Apple è l'azienda che fa i telefonini che abbiamo tanti di noi, l'iPhone che fa il Mac, ecco, quando l'azienda Apple, a livello mondiale, ci ha contattato e grazie al supporto di tutte le istituzioni italiane, ha scelto di venire a Napoli, presso l'Università Federico II, a fare lì uno dei centri di ricerca più importanti per il proprio sviluppo, è perché il nostro mezzogiorno, pur avendo problemi, ha delle straordinarie professionalità. Allora, io dico, ci sono tante cose da fare, sì, stringiamoci più forte e facciamole insieme. Non cediamo alla cultura di chi dice, va sempre tutto male, diamo assistenzialismo a tutti, reddito di cittadinanza e sussidi. Perché i nostri nonni ci insegnano che bisogna lavorare, non aspettare il sussidio dello Stato. Ovviamente lei fa riferimento, per esempio, al Movimento 5 Stelle, per esempio a Di Maio, per esempio alla loro proposta del reddito di cittadinanza. Le faccio una domanda. Di Maio ha presentato la sua squadra, l'ha anche mandato via mail al presidente Mattarella. Secondo lei questo è un vantaggio per il Movimento nei confronti di chi lo deve votare, che ha più chiare le idee di chi potrebbe trovarsi al governo? Loro sono stati molto bravi a fare un'operazione di marketing, perché i 5 Stelle in questa campagna elettorale hanno fatto uno scivolone, hanno candidato nei collegi, cioè sulla scheda elettorale che troverete andando a votare, ci sono candidate delle persone che gli stessi del 5 Stelle dicono di essere impresentabili. Qualche truffatore, qualche scroccone, tutte vicende loro. Allora che cosa hanno fatto? Si sono inventati, con una bella operazione di marketing, l'immagine della squadra. Io vorrei prenderli sul serio. Cioè io non voglio dire, ah ma non si mandano le email al presidente della Repubblica. Questo è vero per le istituzioni. Guardiamole queste squadre. Guardiamo e vediamo qual è la squadra migliore. Io quando vedo che al Ministero dell'Agricoltura il Movimento 5 Stelle propone colei che oggi è capo segreteria tecnica del vice ministro e parla bene del ministro attuale, che si chiama Maurizio Martina ed è del PD, dico forse tra il capo segreteria tecnica del vice ministro e dell'attuale ministro contro l'attuale ministro sarebbe interessante vedere chi è più competente, chi ha lavorato meglio. Oggi verranno fuori i nomi, che so, del ministero dell'interno. È venuto fuori uno adesso. Io non so chi ha scelto Di Maio. È uno adesso. Le dico Marco Minniti mi tranquillizza molto di più. Andrea Roventini per il ministero del tesoro, giusto Andrea? Lo conosce? Al momento io non sono ancora... Io no, però gli italiani conoscono Piercarlo Paduan e sanno che se c'è stato uno che in questi anni ha tenuto la barra dritta sui conti pubblici per evitare di tornare ai tempi dello spread, perché poi alla fine lo spread lo pagano i poveracci, lo pagano le famiglie, non è che lo pagano i super ricchi, non è che lo pagano quelli che hanno tre pensioni, il costo dello spread nella vita quotidiana lo paga la povera gente, non lo pagano coloro i quali sono pieni di quattrini. Bene, se devo scegliere il ministro dell'economia, io dico che ci abbiamo Piercarlo Paduan, oppure ho visto che c'era il ministro dello sviluppo economico, io che pure ci ho anche discusso tante volte, mi fido più di uno come Calenda che non di uno come questo professore che viene da un'università del Sudafrica e che come atto fondamentale che tutti ricordano ha proposto il boicottaggio di Israele. Insomma, il ministro dello sviluppo economico non deve boicottare gli altri paesi, deve far funzionare il proprio. La comunità ebraica ha chiarito che è stato un malinteso, quindi mi sembra comunque di capire che la sua squadra è quella in continuità con il governo attuale naturalmente. Allora io le chiedo, molti a sinistra hanno anche simpatizzato con il premier Gentiloni e pensano che se lei adesso qui, tra oggi e domani, dicesse io mi faccio da parte, faccio il segretario del partito, ma il premier sarà Gentiloni, acquisirebbe la sinistra molta più energia e consenso e coesione. E così lo farebbe? Paolo Gentiloni non soltanto è un ottimo presidente del Consiglio, ma è una persona a cui io sono legato da un sentimento di amicizia, mi lasci dire, sono molto contento che tutti ne parlino bene, anche perché lei ricorderà, a proposito di scelta della squadra, io l'ho voluto come ministro degli esteri e diciamo ho fatto il tifo perché potesse essere lui quello dopo di me. Il candidato presidente del Consiglio, per come funziona questa legge elettorale, lo sceglie il presidente, e la Costituzione, lo sceglie il presidente della Repubblica. Noi siamo una squadra e in questa squadra, questo è un passaggio fondamentale, non litighiamo. Si è già litigato troppo in passato dentro la sinistra, basta dire il nome d'Alema e capite a cosa mi sto riferendo. Quello che deciderà il presidente della Repubblica avrà il nostro totale sostegno. Certo è, se devo mettere le foto di gruppo, non c'è dubbio che una personalità come Paolo Gentiloni, come pure quelle che citavo prima da Piercarlo Padona a Dario Franceschini a Marco Minniti, mi fanno dire che quelli dei Cinque Stelle possono mandare tutte le email che vogliono, ma se guardiamo la forza delle due squadre, io penso che gli italiani sapranno scegliere. Quando saremo a lunedì, il 5 di marzo, però è possibile che ne venga fuori una situazione un po' intricata. Ovviamente lei adesso mi dirà che se votate tutti per il PD sarà meno intricata, questo lo so, ma in realtà che cosa ci troveremo i lunedì? Parliamo di scenari realistici, insomma. Condivido il suo appello a votare tutti per il PD, ma scherzo. No, no, il suo appello... Però sto scherzando, ho fatto una battuta. Lei ha ragione, nel senso che purtroppo non è più come avevamo sognato prima del referendum costituzionale di dicembre 2016, un meccanismo semplice. Noi cosa volevamo? Noi volevamo che la sera delle elezioni si potesse sapere il nome non soltanto del premier e della squadra, ma del gruppo dirigente che per cinque anni... Cinque anni sono tanti, ma sono pochi rispetto alle esigenze di un paese... che per cinque anni avrebbe a quel punto governato tutto il nostro meraviglioso paese. È andata male, il referendum non è più così e bisogna avere il coraggio di dire che adesso il meccanismo è molto più confuso. Tuttavia il nostro obiettivo è essere il primo partito, sa perché? Perché è alla nostra portata, perché la scheda elettorale, e io invito a barrare il simbolo del Partito Democratico, perché per votare i nostri candidati, che ricordavo prima, da Gentiloni a Padoan, a tutti gli altri, bisogna votare, bisogna barrare il simbolo del PD. Bene, per ottenere un bel risultato, se il PD otterrà un bel risultato, penso che il Movimento 5 Stelle non sarà il primo partito. Lì la sfida è a due, o PD o Movimento 5 Stelle. E io sinceramente quando penso alle posizioni dei 5 Stelle, senza far polemica, ma sui vaccini, sui grandi eventi, ma sono preoccupato sì, scusi, io sono un padre, io sarò anche l'ex Presidente del Consiglio, l'ex Sindaco, il candidato in Parlamento, però io sono un padre, io sono un babbo, come si dice a Firenze, ho tre figli e sono preoccupato che la salute pubblica sia in mano agli sciamani e a quelli che dicono no ai vaccini. Le chiedo una battuta rapidissima perché sono in chiusura. Tra pochissimo dopo di lei viene Matteo Salvini e vuole salutarlo. Se Salvini diventa Premier, cosa succede? Guardi, noi siamo su posizioni totalmente opposte rispetto a Salvini e penso che gli italiani lo vedano perché sul tema della sicurezza io credo molto più credibile minniti di Salvini. Noi abbiamo messo i soldi per i carabinieri e per le forze dell'ordine, quando ha governato la Lega li ha tagliati. Noi presentiamo un progetto concreto con 100 punti realizzati. Mi piacerebbe sapere chi ha fatto Salvini in questi anni al Parlamento europeo, ma detto questo, se Salvini vincerà le elezioni in questo Paese e se Salvini avrà i numeri in Parlamento, noi rispetteremo l'esito delle elezioni perché siamo sinceramente democratici. Le dico che personalmente preferisco che chi oggi va a votare rifletta bene sul rischio di dare il Paese a salire. Cosa preferisce? Io le auguro in bocca al lupo naturalmente per la sua campagna elettorale. Grazie per essere stato qui da noi a Mattino 5.